Sfondano una parete divisoria tra due negozi, si introducono nella sala slot e svuotano il contenuto di 10 videopoker. La banda del buco non conosce soste, ed ostacoli soprattutto. La scorsa notte i gnoti infatti hanno messo a segno un furto all'interno della sala Marco, all'interno del centro commerciale Il Grillo a Villa Rosa di Martinsicuro. Colpo studiato dagli autori, che dapprima si sono introdotti nel punto vendita Hyper Family, punto di appoggio utile per praticare un foro nella parete divisoria ed entrare poi nell'attigua sala giochi. Una volta dentro i ladri hanno scassinato i videopoker presenti, circa una decina, portandosi via tutto il denaro contenuto. L'entità del bottino deve ancora essere quantificata nel dettaglio, anche se si parla di diverse migliaia di euro, mentre non pare che fosse attiva una polizza assicurativa a copertura di eventuali furti. Un colpo, come detto studiato nei particolari, è perfezionato nel cuore della notte. La banda di ladri infatti ha focalizzato bene il proprio obiettivo, trovando il pertugio giusto per entrare nella sala slot. Il tutto lontano ad occhi indiscreti, visto che nessuno ha visto e sentito nulla, anche perché in quella zona, centro commerciale a parte, non esistono abitazioni. Sul posto i carabinieri della stazione di Martinsicuro per i rilievi del caso.